Un saluto a tutti. Oggi tratteremo di un argomento molto importante, molto bello, come al solito per me molto emozionante. Come prende il via, come nasce una relazione d'amore col suo incanto iniziale e poi come può essere avvelenata e come può inserirsi il cosiddetto doc da relazione, disturbo ossessivo compulsivo che entra nelle relazioni d'amore e trasforma tutto. Vedremo adesso di trattare questo e di capire perché accade, come accade, come potrà essere neutralizzato. Come nasce un rapporto d'amore? Un rapporto d'amore nasce non per caso, per dei motivi che qualche volta, anzi molto spesso, sono ignoti ai due protagonisti. Ignoti ma ben definiti, hanno un'identità precisa. Esiste un perché valido, sempre e perfetto, che fa partire questa apertura di cuore, di parola, di pensiero, di atti, di avvicinamenti fisici. Ecco, questo avviene in un modo perfetto. quando a pilotare non è la mente dell'uomo, ma è il suo corpo, la sua emozionalità e la sua anima che è nata per questo. Ma cosa succede? Cosa può succedere? Quando è più facile che succeda? Può succedere che, all'improvviso, come avvenne tanto tempo fa, all'inizio, ai nostri progenitori, la loro vita era iniziata in un modo perfetto, era paradisiaca. Stavano nel giardino, quel giardino perfetto. Nelle coppie che nascono, nell'amore che nasce, la prima etappa è sempre il paradiso. Cosa succede? Che la mente, il lupo a guardia dell'io, ecco, dobbiamo considerare che la mente, il lupo non è un animale che scherza molto, è un animale bello anche, un animale possente, intelligente, molto libero, molto, insomma, nell'immaginario di tutti noi e anche nella realtà, chi li dovesse conoscere, avrebbe un grande rispetto. Quindi noi abbiamo dentro una potenza così, che parliamo il lupo a guardia dell'io, quando fa la guardia sul serio. Ma che succede? Se questa, se la mente che non è, che non vive in uno stato brado selvaggio, perché nel mondo wild, in un mondo wild, selvaggio, le menti rimangono, possono rimanere perfette, quindi andrebbero in perfetta collaborazione e sintonia con l'anima e il corpo. Corpo e anima che sono incorruttibili, di fatto. Invece la mente, siccome è porosa per necessità, deve assorbire, deve imparare, deve sapere sempre una nuova, deve non essere colta di sorpresa, lo sa in un certo senso che deve tenersi pronta. Ma nel mondo di oggi, tenersi pronto significa imparare, venire a conoscere una serie di pericoli che, per esempio, una coppia innamorata, una coppia potrebbe scoprire, potrebbe dover affrontare. E qualche volta, spesso, troppo spesso, potrei dire che, nella maggior parte dei casi, la minaccia e il pericolo che la mente trova è fallace, è finto. È una fake news. Porto un esempio. Una mia paziente vive felicemente, ma felicemente, proprio felicemente, al punto tale che ha deciso proprio di finire il matrimonio precedente, da cui erano nati tre figli, per vivere insieme a una persona di cui si è profondamente innamorata. Una persona brillante, vivace, diciamo, tendeva ad avere una grande brillantezza, una grande vivacità. Ok. Un giorno scopre una cosa, io non direi che non voglio nemmeno entrare nel dettaglio di quello che scopre, comunque scopre un'imperfezione nel comportamento di questa persona che potremmo chiamare, potremmo chiamare, ma bisogna stare attenti a chiamarle con certi nomi. Scopre una dipendenza. Io non voglio dire di che dipendenza si tratta. Si tratta per non condizionare chi ci ascolta. Anche se Antonino dice che qualunque dipendenza non può intaccare in profondità l'anima, la singolarità di una persona. Allora, che succede? Inizia il doc. Inizia il disturbo ossessivo, compulsivo. Ossessivo, quindi la mente di questa donna innamorata comincia a voler sapere il massimo, a ricevere tutta l'informazione possibile sul comportamento di lui, dopo che è scattato che è scattato una paura, un'ossessione. Quando lei venne a sapere nell'istante iniziale che lui aveva questa pratica, ma ne aveva riso insieme a lui. Quindi finché lei era in quel punto di vista conservato, il punto di vista conservato è un punto di vista protetto dai due alleati che sono il corpo e il cervello e l'anima. Il corpo e il cervello con i suoi meccanismi istintivi protettivi e ispiratori, quindi proteggono e muovono l'azione, che vanno d'accordo perfettamente con un'anima che è al comando, insieme al corpo. Ma quando il comando viene preso o troppo spazio viene preso fino ad avere addirittura un comando totale, quindi un predominio totale, i meccanismi mentali, quelli del lupo che vuole proteggere. Che fa? Legge i giornali il lupo? Cosa fa? Guarda la TVU? Partecipa ai forum? Non ha quella fierezza, quella prontezza e quegli riflessi che sono in grado veramente di proteggere con decisione e con efficacia la vita dell'io, la vita della nostra persona, dell'io reale. È una mente reale, un lupo reale, un selvaggio e potente protettore non inquinato dalla sopravvalutazione delle patologie, possiamo dirlo. E il ruolo di lui, mi permetto di dire, per quanto inizialmente potrebbe sembrare il reo colui che non aveva il perfetto requisito in cui aveva una pratica di dipendenza, una pratica di dipendenza di cui lei per due anni e mezzo non si accorta proprio. Quindi, secondo voi, se non si accorta proprio per due anni e mezzo, diciamo di questo, era in grado questa dipendenza di impedire qualcosa di valore? Non era in grado. La dipendenza poteva essere compatibile, anche se le dipendenze sono dipendenze, meglio no, meglio no, ma era compatibile con una vita in cui l'amore nel suo incanto iniziale proseguiva. Iniziano invece le ispezioni, i controlli, tutto, cioè il dominio totale sull'informazione, la vigilanza, la presenza ossessiva di questi contenuti dentro la sua testa, la volontà di liberarsi da dubbi, la volontà di fare delle verifiche. Ecco il doc, comincia il doc, comincia il doc e l'amore dove è finito. L'amore ancora c'è, ma deve ritirarsi come un ghiaggiaio. L'amore si ritira, l'amore è sostenuto solo dai due alleati, corpo e anima, fratello e sorella, uniti, sono guerrieri, sono potenti, sono in grado di guardare al futuro senza paura. sanno che la dimensione della loro natura, della natura di esseri umani è nel presente assoluto, adesso. Un presente che non finisce mai, che continua, ma sanno che la loro presenza mentale e il loro strumento poderoso che è il lupo, mente, la mente lupo, wild, wild, non contaminato, non reso spento e spaventato da una trasmissione televisiva, da qualcuno che parla da un filmato sul web, in cui qualcuno ci ha messo paura. Se comprendiamo bene la causa del doc in questo rapporto, la causa qual è? Che lei ha sottovalutato l'uomo, anzi l'ha cancellato. Parla di lui dicendo, ma sai, lui ancora implora, chiede, mi prega, ma non fa nulla. È un tossicodipendente, dice. Non si può parlare così di nessun uomo. Parlando così noi distruggiamo la verità della sua persona. Non c'è un uomo che possa essere indicato con un aggettivo del genere, anche se fosse gravissima la sua condotta. Una donna che scopre un uomo che ha una dipendenza, con cui è stata felice, dovrebbe un attimo ragionare. Io ho dovuto fare la parte della psiche wild, senza pregiudizio e senza paura, che dice a lei, ho detto, ma scusa, ma come stavate insieme in tutto quel periodo? E lei mi ha confermato che era un periodo bellissimo. Guardate che due anni, due anni e mezzo sono tanti, ma tanti, ma tanti. Due mesi e mezzo sono tanti, ma tanti, ma tanti. Due sere sono tante, ma tante, ma tante. Che voglio dire? Voglio dire che, guardate, uso queste dita per far vedere le due anime che si sfiorano, si avvicinano, si allontanano, si tengono uniti. Ma sapete che vuol dire scambiarsi dei messaggi, parlare anche se non si sta avvicini, o se si sta avvicini ancora meglio. Eh, ma se si sta avvicini poi la paglia col fuoco prende fuoco. Se io dico che questa cosa esiste, va bene, esiste. Ma se io la sopravvaluto, non è più la cosa di cui io dovrei tenere conto, ma diventa un'altra cosa. Portato l'esempio adesso della dipendenza, potrei portarne un altro. Allora inizia questo mostro. Allora inizia questo inquilamento. Allora questa donna, che era una donna finalmente contenta, finalmente piena di speranza, con molta energia, anche fierezza, che veniva da una storia precedente, anche dei bambini, così, perde anche l'immagine di se stessa. Non crede più nemmeno a se stessa. Perché dopo alcune settimane o mesi di un turbine dentro il DOC, dentro il disturbo ossessivo compulsivo di relazione, non ci si ricorda più nemmeno chi siamo, chi è lui. È finito in quel momento. Giunti fino a questo punto, esiste una possibilità di tornare indietro? Esiste una possibilità di recuperare quella partenza, quell'incanto iniziale? Esiste la possibilità di tornare alla conoscenza vera, non deformata dall'ansia e dal DOC della nostra relazione? Esiste. Ma cosa serve? Uno, serve una guida professionale, in questi casi sicura, una guida che non abbia paura della reattività, della instabilità dei due contraenti, che ormai sono un po' traumatizzati, possiamo dirlo, no? Occorre recuperare gli occhi e la vista che era davanti a lei quando ha conosciuto il vero lui, non il lui letto dalla sua mente lupo spaventata. Bene, si può tornare indietro, ma bisogna diventare molto seri, quindi esercitarsi nel rispondere a domande importanti. Qual è il problema oggi? Qual è il discostamento dalla mia condotta autentica e naturale? E quali sono le conseguenze che hanno determinato nel nostro rapporto? Perché ciò è accaduto? Si sarebbe potuto evitare? Come? In che direzione devo muovermi? Ecco, l'impegno nel rispondere a queste domande e nel trattenere la conoscenza vera di risposta a queste domande, con la parte applicativa di quali comportamenti devono rallentare, quali altri devono invece cominciare a fare la loro presenza, aprono la strada ad un recupero che può essere anche superiore a quello della qualità iniziale. Un saluto a tutti!